Una mattina mi comparve, mi telefonò, mi chiese un appuntamento e comparve questo capriolo, questo buono, era un cucciolo, che tirò fuori la chitarra e cominciò a cantare una serie di pezzi strani, molto sfiziosi, non ti so dire quali, non erano sicuramente i suoi successi, ma la maniera era quella in cui c'era questa voglia di cabaret, erano un po' a cavallo fra cabaret e canzone.